A meno di tre settimane dagli Stati Generali del Turismo che hanno tracciato una linea di bilancio sull'anno da Capitale della Cultura, la riflessione sull'eredità di questo 2024 sposta lo sguardo in avanti con i tavoli di lavoro degli Stati Generali del Turismo partiti giovedì sera alla Casa delle Tecnologie Emergenti, riunendo professionisti, associazioni, operatori del settore, uniti nella partita di costruire l'attrattore della Pesaro che verrà. Il primo incontro ha costruito in tal senso il tavolo permanente di monitoraggio. Agli Stati Generali abbiamo fatto un racconto per l'appunto generale di quelli che sono i risultati di questi anni, di quest'anno in particolar modo la Capitale della Cultura, gli arrivi e l'obiettivo del consigliamento di questi numeri e anche naturalmente un rilancio verso il futuro. Però per poterlo farlo come abbiamo fatto anche dieci anni fa occorre rifare un po' un'analisi di a che punto siamo, quali sono i nuovi obiettivi e anche quali sono gli indicatori. Cambiano gli strumenti, anche i digitali di rilevazione, cambiano le modalità, ritorna però anche molta necessità di contatto personale, quindi volevamo ripartire ad un incontro con gli operatori proprio per definire le prossime strategie e fare in modo che ognuno per i propri ambiti, anche per i propri interessi di cui è portatore, possa aiutarci a costruire un sistema sempre più moderno, efficiente e in cui l'amministrazione possa fare la prima parte, gli enti, le società altrettanto, gli operatori turistici e soprattutto darsi nuovi obiettivi anche rispetto ai flussi turistici che ovviamente sono andati consolidandosi in quest'anno da Capitale della Cultura ma che dobbiamo fare in modo di non disperdere anzi di incrementare anche verso le nuove sfide. Fra i temi al centro del dibattito anche le grandi strutture come Vitri Frigo Arena e Auditorium Scavolini, incubatori di eventi sui quali si vuole puntare in maniera strutturata. Dall'inizio dell'anno della Capitale della Cultura ad oggi la Vitri Frigo Arena ha superato le 300.000 presenze e l'Auditorium Scavolini le 22.000 presenze considerato dall'aprile fino a novembre, alla metà di novembre. Sono strutture importanti perché permettono di promuovere la città appunto per attrarre eventi importanti per l'economia turistica del territorio, gli eventi congressuali, gli eventi sportivi, gli eventi legati allo spettacolo sono tanti. Già la prossima settimana avremo due eventi importanti come quello della Pausini di Tananai, due concerti che sono sold out e che in qualche modo così attirano gente sul nostro territorio. Abbiamo visto che quest'anno la Capitale della Cultura ha fatto impennare gli arrivi e le presenze e noi dobbiamo mettere a fuoco questo e partecipare al tavolo permanente di monitoraggio sul turismo come Aspes che è la società che gestisce le due strutture e da lì ripartire per un rilancio ulteriore insomma di quello che può essere la promozione turistica. Quattro i tavoli di lavoro programmati in meno di un mese, il prossimo lunedì 18 novembre nella sede di Alpitour. Un tavolo sarà dedicato alla sostenibilità in cui rientrano tante politiche ambientali ma non solo, la parco San Bartolo, la bicicletta, quelli che sono gli elementi anche diciamo caratteristici e caratterizzanti degli ultimi anni della politica amministrativa e turistica e anche culturale della città. Un tavolo sarà dedicato a tutta la partita legata all'inclusione e all'accessibilità che è un grande macro tema non solo in termini anche potenziali ulteriori mercati turistici ma di giustizia e di equità e anche di qualità dell'offerta che si va a dare come città e come territorio. E poi il tavolo Cantiere 2033 che dice da solo l'obiettivo che è quello di lavorare assieme ai 50 comuni della provincia al grande sogno di Capitale Europea 2033 che ovviamente è una partita molto complessa ma il solo raggiungimento anche della fase finale vale tantissimo dal punto di vista promozionale e di continuum di quello che è lo sforzo e il riconoscimento di questi anni.